Ben tornati a un nuovo speciale Cronaca Aghettina, siamo venuti a trovare dopo un po' di tempo l'On. Maurizio Bianconi che salutiamo. Buongiorno a voi. Ben ritrovato. Ovviamente sarà una chiacchierata un po' sulle ultime vicende, a cominciare da quelle internazionali, ma vedremo anche di parlare di quelle aghettine, visto che è un anno comunque di giunta Ghinelli. Partiamo però dall'Inghilterra. Questa Brexit abbiamo sentito toni allarmistici, catastrofissi anche a livello mediatico, anche da suoi colleghi aghettini. Lei che dici? Io ho già detto, mi pare molto. Io sono molto soddisfatto. Io brinderò, l'avevo detto prima, anche se tutti piangono, brinderò, perché l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea significa che si può fare una dissoluzione ragionata di quest'Unione Europea così com'è, che è un'Unione sbagliata. Io questo l'ho detto da anni che lo dico, ora se ne accorgono un po' tutti. Quando dicono che bisogna cambiare gli estremi per fare una nuova Unione Europea, anche Renzi ora se ne sono accorti tutti, in realtà per fare qui non è che si può fare come si fa le case, togli e cucci, eccetera. Qui bisogna buttare giù tutto con una ruspa e rincominciare perché questa Unione Europea è praticamente in mano a una setta di eurocrati banchieri in stretta connessione con gli interessi tedeschi per qualche verso anche della finanza americana. Sono tutti Goldman Sachs, che è la banca di investimento e di speculazione più importante del mondo. Sono tutti in mano alla stabilità monetaria della Deutsche Bank. Fatto si è che con questa Europa la Germania ha migliorato il suo tenore del 28%, l'Italia l'ha diminuito del 32%. E fatto si è perché poi le chiacchiere non fanno farina, che dopo 15 anni di crisi permanente, perché è dalle torri gemelle che siamo in crisi, in Italia ci sono 11 milioni di persone, non scherzo, 11 milioni di persone che non fanno più medicina preventiva, la mortalità infantile è aumentata e la cosa che non si è mai vista, che è il segno veramente della degenerazione della civiltà, è che la vita media è abbassata di sei mesi. E questo da quando il mondo moderno c'è non era mai successo. Questi sono segni di crisi vere. Se poi voi pensate che circa 7 milioni di nostri connazionali ora non sanno se stasera mangeranno, quindi hanno cosiddetti problemi alimentari, voi capite che il massimo del capitalismo ha portato al massimo del malessere. E siccome la ricchezza complessiva non è diminuita, vorrei sapere chi è la messa a tasca. Non la gente, si sono perduti milioni di posti di lavoro e io sono sconcertato di tutte queste lamentele che ci sono alla televisione. L'altro giorno si lamentavano perché ben 216 mila investitori in borsa avevano perso dei soldi. Quando 45 milioni di italiani hanno perso il valore della propria casa di proprietà non ha pianto nessuno. Quando hanno detto che il risparmio non contava più niente non ha pianto nessuno. Quando si trattava di mandare la casa a 10 mila per volta la gente non ha pianto nessuno. Quando si è messo mezzo milione di cosiddetti esodati senza arte né parte non ha pianto nessuno. Quindi sono tutti piagniste a comando. Qui siamo in mano a una manica di mascalzoni, di ghenster, di un'associazione a delinquere. Io l'ho sempre detto, io aspetto che Monti lo processino, che l'amfornevo vada in galera, che si disveli la trama che lega sicuramente Napoletano, vorrà sapere a chi, che tutte le responsabilità vengano fuori perché questo non è un complotto, è un'associazione internazionale che vuole questo. Chi ritiene veramente il potere in Italia al di là di Renzi e di quello che diciamo appare? I datori di lavoro di Monti, i datori di lavoro di Renzi, i datori di lavoro di Napoletano, penso sempre alla finanza internazionale, penso a Bildenberg soprattutto e alla Trilateral. Il potere si determina. Voi pensate che la Trilateral è venuta in Italia con un tema. Il destino dell'Italia nell'Unione Europea, si sono riuniti in un albergo a Roma due giorni, tutto il Santa Santorum del mondo, non c'è stato un trafiletto in nessun giornale, questi detengono il potere. D'altro canto viene tutto da Rockefeller, non è una storia di adesso questa qui, è una storia che nasce anni fa, Brezinski, Rockefeller, Kissinger, è una storia... Vedete, il capitalismo, io non sono un comunista, voi lo sapete, ma il capitalismo va bene per la libertà se ha il comunismo davanti, cioè se si deve contenere. Nel momento nel quale non ha più nemici, il capitalismo finisce il giorno che c'è un padrone di tutto, fino a che i padroni sono due, ci sarà guerra e gente in terra. Qualcuno prevede che già è previsto il dopo Genzi, no? Nel senso che ha svolto il compito che deve fare e forse è già previsto il successo. La cura Monti era una cura che aveva spaventato gli italiani. Prima Monti era il signore di tutto, poi quando hanno capito che questo faceva non il matto furioso, l'ha detto lui, dice ho fatto dei provvedimenti coloniali, l'ha detto. L'ha detto lui a quegli altri. Ho abbassato delperatamente i consumi in Italia, cioè uno dice una cosa così, va subito arrestato perché ci ha messo sull'astico tutti, tutti. E quindi non reggirà. Letta non è parso aver presa, però dopo l'hanno subito ricompensato perché gli hanno dato una scuola a Parigi. Questa è gente che è prodi, quando venne via andò a fare il presidente della Commissione Europea. Ciampi ha fatto il presidente della Repubblica, Napolitano è stato compensatissimo, Bassanini addirittura l'ha portato a fare il presidente della Deposito e Presti. Ora hanno nominato Costamagna, che anche lui è di... Cioè, tutti da vitti cascano. Lui è una classe dirigente che cade tutta da vitta. E quindi hanno provato a fare la faccia buona di quello che avrebbe dovuto fare Monti, facendogli di una cosa e puntualmente realizzandone un'altra. Se non che lui poi ci ha messo del suo. E ammettendoci del suo e della signora, perché secondo me la Maria Elena Borschi ha avuto un gran pregio con la sua telegenia nella popolarità e poi ha avuto il gran difetto di rivelarsi chi era e qual era la sua spessore e quindi è stato un combinato disposto bene bene, male male. Però io penso che Renzi reggerà ancora, però questa volta di forza sua. Che Renzi andava male, io me ne ero accorto, non perché leggo la stampa internazionale, ma perché ho vicino di posto Capezzone, che legge tutti i giornali stranieri e poi quelli italiani. E sono mesi che mi dicono, guarda che Renzi campa poco, perché guarda cosa dice i giornali americani, era già in disgrazia presso di loro e lui ha capito da quello che aveva delle difficoltà. Ecco perché lui si è messo a girare per il mondo come un matto. Però a Renzi gli mancano i fondamentali dello statista, è un gran bravo sindaco forse, ma il primo ministro è un'altra cosa. La vicenda Banca Etrugia, alla luce anche di quello che è emerso in questi mesi, come va letta, alla luce anche di queste cose che ha detto? A livello nazionale è stato il sistema bancario che ha dimostrato il suo solito stolto egoismo. Perché quando io feci i conti, io non sono un commercialista, sono un revisore contabile, però iscritto all'albero per un po' di conti li so fare. Io avevo visto che mancava 800 milioni e se ci fossero stati 800 milioni non succedeva niente. Poi ho visto perché sono mancati 800 milioni. Perché, e qui c'è un'interrogazione in Parlamento che ancora nessuno mi ha risposto, e mi ci ha voluto un pochino per metterla insieme, perché è successo questo, che il sistema ha inteso creare una media di pagamento dei debiti a tutto risparmio, cioè che gli facesse risparmiare per l'appunto 800 milioni e ha mosso bini smaghi per questo. Se avessero comprato i debiti al prezzo che valevano, e cioè con circa 1000 milioni in più, non 800, pagavano tutti e non si accorgeva niente nessuno. Invece hanno voluto fare i pidottiosi, scusate, e è andato a finire che il sistema bancario in termini fiduciari ne ha toccato assolutamente, è successo lo scandalo che si è poi riversato politicamente su Renzi, sia perché riguarda un territorio a lui caro, sia perché c'è stata la grande imprudenza del babbo della Boschi di continuare a fare il vicepresidente che doveva smettere subito prima, come io l'avevo detto al presidente, perché io a mia banca ci tenevo, poi non sapevo mica che facevano. Dico, se sei in difficoltà, fai smettere il Boschi di essere vicepresidente, perché se no la prima fiondata la pigliate nel muso per questo, scusate l'Aretino. Disse che nessuno voleva smettere, anzi che avevano diritto a farlo e quindi è andato a finire come era. Poi ho visto che anche questo però non era molto pronto, perché se vado a Carboni per chiedere a Carboni chi è che deve fare il direttore della banca, mi viene qualche dubbio che qui ci sia proprio un'insufficienza complessiva di un certo peso. Quindi questa vicenda va letta in questi termini. Una grande, diciamo così, egoismo del sistema bancario e una grande disattenzione del governo che dovrea dire questo governo, conso tutti, prima di fare il decreto. Dice no, voi ritrovate questi 800 milioni e poi andate. E poi dice no, è l'obbligazionista, via, senza sapere perché lo sapevano quel che era successo e che bubone gli scoppiava. Quindi dilettanti allo sbravaglio. Per quello che ritiene il territorio avetino la questione banca è invece il progetto Binismaghi. Cioè Binismaghi ha risparmiato quegli 800 milioni acquistando i debiti e facendo la media. Dopodiché con questo è diventato sempre attraverso società eccetera l'advisor della Banca Popolare che vuol dire che è lui che decide a chi la vende. E nel contempo, non sapendo cosa fare, è diventato anche presidente della Chianti Banca. C'è della banca concorrente alla Banca Popolare nello stesso territorio. Qui nessuno ha fatto un mandato di cattura a nessuno, ma siamo dentro alla morte di una banca per favorirne un'altra. E quest'altra banca di chi è? Ma guarda là, è grava sui territori di Renzi, sui territori di Lotti, sui territori della Boschi. Cioè siamo a delle cose, io sapete che ho voluto tanto bene, ma ho qualche motivo di risentimento nei confronti di Berlusconi perché secondo me ha tradito il centro-destra, si è messo d'accordo con Renzi. Siamo in questi casini anche per gli errori di Berlusconi. Anche per gli errori di Berlusconi. Però se l'avessi fatto Berlusconi, non fare così, non avessi stato tutti, anche Dudu. L'avranno preso Dudu, l'avranno messo dentro. Qui nessuno dice niente. Alla fine sono scoppiati tutti i buboni possibili e immaginabili e questa città non si risolveva più. Questa è la verità. Ecco, a proposito di questo, è da un anno che è in carica la Giunta Ghinelli. Che ne pensa di questo anno? Perché la Giunta Ghinelli è frutto di questi buboni, perché la Giunta Ghinelli è la Giunta del Vescovo Fontana, è la Giunta di Cercarelli, è la Giunta forse del mio amico Peppe Farfani, è la Giunta dei Ghinelli, è la Giunta di troppa gente, la lancia d'oro dal Papa. Lo sai come ho scritto, ho visto che la sezione Arezzo in Paradiso si sono scandalizzati tutti. Hanno fatto una riunione e hanno deciso che venga giù Tarlati e Mano Militare li sbaracchi tutti. o un mignone che faccia il miracolo di San Francesco e scacci i diavoli d'Arezzo. H ha nessun effesso, come sta sta operazione si è capito tutti, insomma, non c'è una Giunta di destra. Qui c'è un comitato d'affari che lavora come con la Giunta Lugherini c'è un altro comitato d'affari che lavorava. Quindi non è cambiato niente. È sempre la solita gente. Può cambiare un nome, due nomi, ma è questo immobilismo e questa tensione paesana che crea una classe di gente immobile che ha portato al degrado che ha portato. Ma ti pare possibile, scusa se tu l'altro del tu, che siamo tutti grandi, vaccinati, toscani, che un sindaco di centrodestra venga indicato da tutti i sindaci di centrosinistra della Toscana, meridionale, presidente del comparto dei rifiuti. Cioè, viene da ridere. Il che vuol dire che è della banda, sono Federi e Risarca tutti in abarca. Cioè, questo non ha precedenti nel mondo, se non c'era un accordo prima. Quindi c'è di mezzo ovviamente anche il PD. Un grosso pezzo del PD che sicuramente è quel PD che non ha digerito il razzismo di ritorno, perché poi lì c'è tutte le guerre civili interne. Ma sicuramente la giunta non è di centrodestra, sicuramente ci sono interessi. Ma non dico illegali, quando io dico gli interessi, non dico che c'è gente a rubare. Gli dico che c'è gente che antepone questi interessi complessivi, ritenendo magari di fare gli interessi della città, l'interesse della città. Lo voglio un esempio. Quando io dieci anni fa dicevo che il centro affari andava costruito sulla lebole, perché la lebole sarebbe rimasto rudere e che mi hanno tutti sputato nel muso, schifato, e se avevano fatto come avevo detto io, oggi ci sarebbe tutta quella bella zona libera e di qua ci aveva un bel centro affari. Ma siccome ci si guadagnava una volta sola invece che due e non è stato fatto. Quindi per concludere sulla lancia, qual è il motivo di questa giostra? C'è la sintesi della giunta, no? E la giunta ha la sintesi dell'alleanza sulle guardie svizzere Domenico Gianni, c'è il sindaco Fontana, c'è il vesco Fontana, c'è il sindaco Ghinelli e c'è l'assessore Ceccarelli. E quindi sono andati a farsi dalla benedizione. E' normale. D'altro canto non abbiamo avuto il saracino fra Rosario di Lourdes e Nanto l'altra volta. Indiretta. E' indiretta, quindi no. Come voi sapete Ghinelli è un noto clericale, non mi risultava a me, quindi vuol dire che qualcosa c'era.